nuovo lavoro per paolo sorrentino ma questa volta non si tratta di un film si tratta invece di una serie televisiva targata hbo e che provvisoriamente ha come titolo the young pope protagonista di questa nuova serie sarà judlo tra i produttori della serie ci sono anche sky e canal plus queste otto puntate racconteranno l'insediamento del primo papa americano e delle difficoltà che lui ha incontrato appena investito della sua nuova carica judlo vestirà i panni del vescovo americano lenni beraldo che diventa papa prendendo il nome di pio xiii subito si trova a scontrarsi contro le tradizioni dei rigidi sistemi del vaticano che non è molto avvezzo a trattare con un cittadino degli stati uniti la serie verrà registrata quest'estate tra italia e stati uniti e dovrebbe vedere la luce sul piccolo schermo a partire dal 2016 nell'attesa di vedere questo grande capolavoro sul piccolo schermo possiamo comunque goderci un altro grande capolavoro di paolo sorrentino ovvero youth la giovinezza che molto presto arriverà nelle sale cinematografiche e intanto è lì lì che se la gioca per vincere la palma d'oro a can grazie a tutti